Buonasera a tutti e ben trovati alla piazzetta della Madonna di Costantinopoli per la terza serata di incontri, il festival della teologia. Abbiamo fatto in questi giorni un percorso per scoprire sempre di più la profondità della figura femminile all'interno della Chiesa e all'interno del mondo che ci circonda. Abbiamo compreso e scoperto come la figura femminile ha avuto un ruolo da protagonista nella storia della salvezza attraverso la relazione che ci ha offerto la professoressa Maria Rosaria Cirella, quindi un cammino nell'Antico Testamento. Ieri con la professoressa Lorella Parente abbiamo visto come la figura di Maria sia una figura centrale nel vissuto di fede e nel disegno di Dio, strettamente naturalmente legata alla centralità di Gesù. Oggi naturalmente continuiamo ad affrontare le figure femminili ma lo facciamo nella prospettiva di Gesù e quindi avremo questa terza relazione che conclude questo percorso con un biblista della facoltà teologica, la sezione San Luigi di Napoli, Don Emilio Salvatore. Naturalmente voi avete visto in questi giorni come anche il festival abbia dovuto mettere insieme tanti elementi, quindi io per non dimenticare di farlo alla fine lo faccio all'inizio, Andre Giaccio che cura la regia lo ha messo in sovraimpressione, c'è un IBAN. Perché questo? Perché naturalmente noi abbiamo dei piccoli sponsor che ci sostengono, abbiamo il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che patrocina e sostiene l'evento ma naturalmente l'organizzazione dell'evento si apre anche alla libera partecipazione delle persone che hanno a cuore la continuità di questa iniziativa. Quindi liberamente naturalmente c'è quell'IBAN nel corso della serata potete prendere un appunto e segnare appunto questo questo IBAN. Eventualmente chi di voi ne ha la possibilità, soprattutto tanti di voi che ci seguono da casa e diciamo l'IBAN è italiano ma anche chi ci segue dall'estero lo può tranquillamente utilizzare. Piccoli piccoli gesti possono aiutare appunto il festival a continuare questo cammino che in tre anni ci ha permesso di portare la parola del Signore in tanti posti a tante persone ma soprattutto ha aiutato tante persone a guardare con gli occhi della fede tanti aspetti della vita quotidiana. Ed è quello che faremo anche stasera poi nella seconda parte della serata nella quale ci concentreremo di più sempre tenendo centrale il ruolo della donna ma calandola nella realtà del Mediterraneo. Quindi con una bella tavola rotonda. Non vi anticipo null'altro rispetto a questo però è bene avere consapevolezza che la teologia aiuta a vivere concretamente la vita e quindi il festival della teologia vuole accompagnare in questo percorso. Allora io adesso inviterei Don Emilio Salvatore a raggiungermi. Ci mettiamo naturalmente a distanza a distanza covid prima di iniziare la relazione. Volevo naturalmente presentare Don Emilio che come vi dicevo è un biblista, insegna Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, la sezione San Luigi, collabora con riviste, è direttore di Bibbia Oggi, una rivista che appunto cerca di avvicinare le persone alla comprensione della Sacra Scrittura proprio nel rapporto diretto che ciascun fedele deve avere con questo testo. Si dice c'è una battuta dei nostri fratelli protestanti che dicono che i cattolici amano tanto la Bibbia che la tengono a distanza sulla libreria e quindi per non sciuparla. Allora direi a Don Emilio di prendere il microfono e di accenderlo. Ok, perfetto. Prima di partire con la relazione volevo proprio legarmi a questo aspetto della conoscenza che siamo chiamati ad avere con la confidenza che siamo chiamati ad avere con la Sacra Scrittura. È così? Hanno ragione un po' i protestanti a criticarci. Diciamo subito che hanno ragione, non perché nella tradizione della Chiesa sia mancato, parlo della Chiesa Cattolica, diciamo la lettura del testo biblico, però non è stato nelle mani delle persone, non è stato nelle mani della gente. Il rinnovamento biblico e il Concilio Vaticano II che ha reso possibile anche con la traduzione naturalmente in italiano della Bibbia a questa possibilità. E ancora oggi comunque fa fatica, la gente dice difficile, perché fondamentalmente nella tradizione nostra abbiamo mediato la Bibbia attraverso altri linguaggi, l'arte, la cultura. Quindi è stata sempre presente, però non c'è stato mai questo approccio diretto. Adesso siamo nelle condizioni per poter avere questo approccio diretto. Quindi questo lo dobbiamo dare atto ai nostri fratelli riformati che noi abbiamo scoperto grazie a loro. Tra l'altro Papa Francesco ci invita sempre a girare con il Vangelo in tasca, perché dice anche nel corso della giornata possiamo aver bisogno di fermarci un attimo e sappiamo che lì la parola di Dio ci può aiutare. Prima ho detto che da questo punto di vista noi, i fratelli riformati, ci rimproverano questi e hanno ragione. L'altro aspetto è che una tendenza a un biblicismo, cioè uno studio della Bibbia lontano dalla vita, è quello che il Papa vuole correggere con queste indicazioni anche molto semplici, molto popolari, e questo invece è un rischio a cui si va incontro, cioè quello di rendere la Bibbia importante, però ridurla solamente in un ambito ristretto, in un ambito, diciamo, di studiosi e quindi sentirla così lontana che poi la gente si spaventa, dicendo dove devo cominciare. Ieri un ragazzo mi ha detto io vorrei leggere, tu hai letto la Bibbia? Sì, ho letto la Bibbia. Come l'hai letta? Dall'inizio alla fine, ma no, la Bibbia non si legge dall'inizio alla fine in questo modo, la si legge attraverso tutta una serie di possibilità di aperture, interessi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche smitizzare questo rapporto con la Bibbia per renderlo più vicino a noi, quindi renderla come una compagna, diciamo, del nostro cammino di fede, questo è. Tra l'altro noi abbiamo il Nuovo Testamento dove la figura di Gesù, con la sua centralità, con il compimento appunto del percorso che nell'Antico Testamento getta le basi, diciamo, di questa conoscenza piena del mistero di Dio, la figura di Gesù che noi oggi affrontiamo in rapporto alle donne. Lo dicevamo nelle scorse serate, il rapporto delle donne con Gesù è rivoluzionario, cioè c'è una profonda dignità che noi scoviamo anche nell'Antico Testamento, ma con Gesù la centralità della donna e la dignità della donna, il protagonismo della donna emerge con una naturalezza che per quei tempi sicuramente era quasi impossibile da immaginare, ma ancora oggi può insegnarci tanto. Sì, è così, è esattamente il tema su cui vorrei soffermarmi questa sera, quello che mi avete dato. Però mi permettete prima di salutare due persone a cui sono molto legato, uno è Don Bruno perché siamo stati compagni di seminario, quindi ci conosciamo da una vita, è il caso di dirlo. E poi l'altro è Don Carlo Pisani che è stato in seminario con me, con la mia seconda comunità, eccolo lì, non lo vedevo, e quindi mi sento in famiglia, mi sento a casa. Poi ho questo scenario bellissimo, ho fatto tante conferenze in vita mia, ma è uno scenario simile, una location diciamo hollywoodiana. Allora, io non trattengo più la platea perché voglio lasciare spazio a Don Emilio, quindi l'accoglienza di Agropoli è questa, una meraviglia che il Signore ci ha donato e quindi con questa meraviglia che ci circonda possiamo conoscere ancora un po' di più la figura di Gesù e il suo rapporto con le donne. Bene, grazie, grazie dell'invito. Daniel Ropsi in un libro, La vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesù, riporta uno dei celebri aforismi dei rabbini sulle donne. Da quale parte dell'uomo trarrò la donna si era chiesto l'onnipotente? Dalla testa sarà troppo orgogliosa, dall'occhio sarà troppo curiosa, dall'orecchio origlierà dietro gli usci, dalla bocca chiacchiererà, dalla mano sarà prodiga. Alla fine Dio prese una parte del corpo molto scuro e ben nascosta con la speranza di renderla modesta. Un testo che la dice lunga su come non tanto la Bibbia ma la tradizione, diciamo rabbinica, ha riflettuto sul ruolo della donna. La condizione della donna nella Palestina al Tempio di Gesù rispecchia un pochino la condizione presente in tutte le società del Mediterraneo. Nel mondo antico, dobbiamo pensare a questo, che alla identificazione della sessualità non contribuiva, come sempre dicono gli antropologi, solo la dimensione fisica ma soprattutto la costruzione culturale. E naturalmente questo riguarda in modo particolare la donna. C'è una emarginazione della donna che si articola secondo dei codici spaziali all'uomo la vita pubblica, alla donna quella privata. Se ci pensate bene è qualcosa che anche appartiene al nostro vissuto, alle nostre nonne, certamente alle radici anche un po' di una certa tradizione culturale anche qui nel sud. Un altro aspetto dell'emarginazione della donna tocca i codici espressivi. La donna appartiene al padre o al marito, raramente a una sua dimensione autonoma. Quindi viene definita in base alle relazioni che ha con un uomo, un padre o in genere i figli. La donna è marginalizzata anche per quanto riguarda la conoscenza. Infatti, se non in case eccezionali, la donna non poteva leggere la Bibbia. Pertanto la donna, ma non riguarda solo il mondo biblico e la Palestina al tempo di Gesù, ma nel mondo antico la donna era diciamo tendenzialmente, generalmente stromessa dalle principali attività che invece toccavano agli uomini. A partire da questi codici culturali c'è un'immagine naturalmente della donna carica di pregiudizi e qui abbiamo per esempio una distinzione tra come è fatto l'uomo e la donna. Nei testi antichi l'uomo è forte e la donna è debole. L'uomo è coraggioso, la donna è paurosa, l'uomo è generoso, la donna è pusillanime, l'uomo è riservato, la donna è chiacchierona, abbiamo sentito prima, l'uomo è razionale, la donna è razionale, emotiva, l'uomo è controllato, la donna è incontrollata. Cioè questa, possiamo dire, tipizzazione tipicamente culturale non ha niente a che vedere con l'identità reale delle persone, ma apparteneva alla cultura antica. La casa è della donna, la città degli uomini. Filone Alessandrino, che vive un po' dopo Gesù e che appartiene alla tradizione giudaica, ma conosce molto bene la cultura ellenistica, dice così, i mercati, i consigli, i tribunali, le associazioni sociali, gli assembramenti di grandi folle, le conversazioni, le attività a cielo aperto, in pace e in guerra, si adicono solo agli uomini. Il sesso femminile deve curarsi delle faccende domestiche e restare in casa. Precisamente le vergini devono trattenersi nelle stanze interne e considerare la porta di collegamento tra le stanze come il limite, mentre le donne sposate devono considerare tale la porta di casa. Vengono messe anche le distanziazioni precise. Esistono due tipi di strutture cittadine, maggiori o minori. Quelle maggiori si chiamano città, quelle minori si chiamano famiglie o i chiai. In base alla divisione, gli uomini dirigono le maggiori e questa direzione si chiama amministrazione della città, politeia, mentre le donne dirigono quelle minori. Direzione che viene detta governo della casa, che però all'epoca si chiamava economia. Interessante, anche per quello che significa oggi per i suoi riflessi. Perché vi ho letto questo passaggio? Perché questo passaggio appartiene alla cultura, diciamo, greca e anche alla cultura della Palestina, una subcultura mediterranea. Non mi soffermo su altri episodi che conosciamo tutti del mondo greco. Per esempio, i grandi autori delle commedie, penso a Cristofane, nelle Tesmoforia Zuse, gli uomini hanno il potere delle chiavi. C'è una specie di presa in giro di questo modo di ragionare. Infatti, in questa commedia, per far ridere, si rovesciano i ruoli. Gli uomini hanno il potere delle chiavi in casa, mentre le donne tengono le pubbliche assemblee e così via. Avete presente questi bellissimi testi che sarebbero da vedere? Ai miei tempi erano anche mandati in tv, oggi ci sono cose più interessanti, ci sono tutti questi spettacoli, diciamo, di amenità e di oscedità che ci prendono, ci fanno perdere un sacco di tempo. Invece, queste grandi opere mostrano molto bene quella che era la mentalità dell'epoca. Altro esempio, nella commedia Lisistrata, dove appunto le donne governano, eccetera, 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 eccetera. Ebbene, questo che vi ho detto, che però non vuol dire che le donne erano totalmente escluse dalla vita pubblica, ma tendenzialmente c'era una distinzione di ruoli, una costruzione culturale che sia nel mondo greco-romano sia nella Palestina marginalizzava la donna. L'ambito ristretto delle pareti di casa era l'orizzonte di una donna ebrea, senza nessuna partecipazione alla vita dello Stato, né alla vita economica, né del commercio, né alla maggior parte delle cerimonie religiose. Tutte queste erano aperte alla partecipazione invece solamente degli uomini. Un altro aspetto interessante per capire il cambiamento che Gesù porta, come veniva detto prima Davito, era la questione di come una donna viveva poi concretamente la sua vita, diciamo, di relazione. Raggiunta la maturità sessuale intorno ai 12 anni, secondo la volontà del padre, le donne venivano assegnate ad un uomo, spesso appartenenti a uno dei due rami della famiglia, e a lui cedute attraverso una specie di contratto matrimoniale, come una specie di atto di acquisto. Veniva fissato un prezzo diverso a seconda dello status della ragazza, che serviva a risarcire la donna in caso di morte del marito o di divorzio. Non c'era alcuna differenza, né a livello legale, né nella mentalità comune, tra l'acquisto di uno schiavo e di una sposa. Era l'uomo soltanto a poter ripudiare la moglie e a divorziare da lei, mentre la donna era autorizzata a tornare a casa, solo in casi eccezionali, in casa paterna, altrimenti non poteva ritornare neanche in casa paterna, era disonorato, secondo i codici, appunto uno dei codici fondamentali delle società del Mediterraneo antico. E per esempio il Talmud sempre ci dice quali devono essere i doveri di una donna. Questi sono i lavori che una donna deve fare per il marito. Macinare la farina, cuocere il pane, lavare i panni e cucinare, allattare i bimbi, rifargli il letto e lavorare la lana. Se ha portato con sé una serva, non macina, né cuoce il pane, né lava. Se ne ha portate due ancora di meno, eccetera, eccetera, però comanda su queste, ma non può fare di più. E quale istruzione aveva una donna? Sappiamo che la scuola, Andreion, il nome dice tutto, era aperta unicamente agli uomini. Non venivano istruite le donne. Neppure nella legge, meglio bruciare la Torah che trasmetterla alle donne. Così dice il Talmud di Gerusalemme nel trattato Sotà. E la fede, come viveva la fede una donna? Per la vita religiosa, la donna non era tenuta a rispettare i comandamenti negativi della Torah. Era tenuta a rispettare i comandamenti negativi, ma non quelli positivi. Quindi non aveva l'obbligo di partecipare al pellegrinaggio a Gerusalemme, alla recita dello scema quotidiano, non poteva offrire vittime imponendo le mani per la benedizione, non poteva pregare le preghiere durante i pasti. Era esclusa dall'area più interna del tempo, del tempio di Gerusalemme, doveva osservare delle norme di purità precise, severissime, dopo il ciclo mestruale e dopo il parto. Non è mai attestato che una donna avesse potuto svolgere funzioni di sacerdotessa, né in epoca antica né in epoca ellenistica, come invece avveniva in altre culture antiche. Quindi era ancora più rigido il maschilismo da questo punto di vista. E ci sono dei passi di cui si trova eco anche nella scrittura. Per esempio il Siracide che dice così, dalla donna ha avuto inizio il peccato, tra poco Pina mi picchia, e per causa sua tutti noi moriamo. Io vi leggo questi testi per far capire naturalmente, per far capire la differenza tra questo mondo culturale e la persona di Gesù e come Gesù si muove rispetto a tutto questo. E' chiaro che, c'è un aspetto interessante però che voglio dire per onestà intellettuale, che una donna, cioè la discendenza di un ebreo e la fede di una persona veniva indicata attraverso il rapporto materno. Quindi, mentre la donna non aveva ruoli pubblici, però dal punto di vista diciamo, della discendenza nel giudaismo antico, la discendenza era matrilineare. Quindi, perché? Perché la donna doveva naturalmente educare i figli alla fede. In questo ruolo di sposa e madre, la donna era sentita come compagno e completamente indispensabile dell'uomo. E perciò Siracide pone molto l'accento su questo aspetto. Anche nell'epoca ellenistica, la figura femminile nel mondo giudaico resta comunque, per così dire, limitata dentro questa serie di indicazioni che vi ho fornite. Vi ho, diciamo, dicendo queste cose so che ho creato un'ansia notevole anche in me che le dicevo. Se questo era il contesto del mondo antico e del ruolo della donna, come Gesù si pone dentro questo orizzonte culturale? Certamente, come ha detto Vito, Gesù è in controtendenza rispetto a tutto questo. E questo già pone una questione importante. Come fa? Io ragiono da storico in questo momento, no? Io sono un credente. Però io ragiono da storico. Come fa un uomo che è dentro una cultura? Guardiamo solamente al personaggio Gesù come, diciamo, figura della storia. Un uomo che è dentro la storia, dentro questa cultura, però si comporta in modo profondamente differente. I Vangeli canonici, in genere il Nuovo Testamento, pur con sfumature diverse, danno un grande spazio agli incontri tra Gesù e le donne. Addirittura poi il Nuovo Testamento elabora un linguaggio simbolico femminile usato da Gesù stesso. Pensate a tutti gli esempi che fa Gesù sul mondo femminile. La donna della dracma perduta, no? Un esempio. L'immagine della gravidanza del Vangelo di Giovanni. Cioè tutto un immaginario femminile che a Gesù non è ignoto, pur essendo dentro questa cultura maschilista. La prima osservazione è questa. Come personaggio della storia, Gesù è marginale. Questa è l'espressione usata per lui da un grande studioso, naturalmente, del Gesù storico. Gesù è un ebreo marginale. Dunque, un ebreo marginale assume nei confronti delle figure, la donna, ma non solo la donna, potremmo dire anche altre figure marginali della società, i poveri, i diseredati, gli ammalati, eccetera, eccetera, Gesù, i bambini, Gesù assume nei confronti di queste persone un ruolo di attenzione a coloro che sono marginalizzati dalla società. Gesù è ebreo marginale, fa delle persone marginali un punto di riferimento essenziale per comprendere e per annunciare il suo messaggio. Perciò le relazioni tra Gesù e le donne sono relazioni interessantissime, perché mostrano il modo con cui Gesù conferisce alle donne in queste relazioni un particolare tipo di attenzione. Prendo due esempi di marginalizzazione della donna, l'emoroissa e la vedova di Nain, ma ci sono anche altri episodi in cui avvengono dei rapporti, diciamo, in cui Gesù interviene a favore delle donne, penso alla suocera di Pietro o alla figlia di Gairo, attraverso la mediazione di altri uomini. Ma in genere, in tutti questi casi, Gesù è attento alla condizione femminile di marginalità come una dimensione da accogliere e da guarire. I Vangelici dicono che anche per le donne Gesù ha un contatto fisico, prende per mano le persone, quindi le prende per mano per aiutarle a risollevarsi. Quindi, nel caso della fanciulla morta, nel caso della vedova, della suocera di Pietro, sono malati, Gesù supera un doppio tabù. Il primo tabù è il rapporto con la donna, il secondo tabù, perché in genere non è che un uomo poteva andare da una donna e avere un contatto di questo tipo immediato e diretto, non era possibile. Invece Gesù supera già questa soglia, diciamo, di distanza. E poi queste persone sono ammalate, Gesù nei confronti di queste persone, penso il caso dell'emoroissa, il caso più eclatante, cioè questa donna che vive di questo flusso continuo di sangue, che addirittura si avvicina a lui da lontano perché teme, perché sa che lei è impura e considerata impura secondo la legge, ma a un certo punto avvicina perché evidentemente vuole essere guarita. Una volta che è guarita, Gesù la chiama e istituisce con questa donna un rapporto di dialogo. E questo è il secondo aspetto, diciamo, degli incontri tra Gesù e le donne. Le donne diventano partners dialogici di Gesù, cosa che invece nella cultura del tempo non esisteva. È bellissimo il caso della Samaritana, tant'è vero che nel caso dei discepoli è Gesù stesso che provoca la donna su questo tema. Come mai, dice prima la Samaritana, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Quindi la donna si fa portavoce di un luogo comune che riguarda la sua condizione, la distanza, in questo caso culturale, legata anche alle differenti tradizioni religiose. E poi i discepoli, quando vedono che Gesù parla con la donna, si meravigliavano che parlasse con una donna. Un gesto che ai rabbi non era consigliato, soprattutto se prolungato. Dicono i detti dei padri, nella Mishnah, che un rabbino serio non poteva parlare con una donna perché si esponeva al pettegolezzo. Penso a tante questioni che a volte anche nel mondo nostro clericale, sui dialoghi tra il prete e la donna, tutte queste cose. Appartengono a questi stereotipi culturali. Se Adamo incomincia a parlare di fronte ad Eva, questo ci dice il racconto biblico, diventa cioè homo loquens, dall'incontro con l'arterità femminile, tutte le donne che incontrano Gesù, da lui interpellate, diventano esse stesse partecipi di questo dialogo, persone in dialogo, cioè capaci di ascolto e di risposta alla pari degli uomini. Anzi con una perspicacia molte volte più spiccata, come nel caso appunto della Samaritana. E anche nelle prime comunità cristiane, di fatto le donne avranno una loro autonomia di azione, che è una cosa abbastanza particolare. Poco, non sempre molto nota al grosso pubblico. È vero che Paolo arriverà a dire che le donne in assemblea devono tacere, ma non è un'affermazione generale, perché molte di queste donne erano collaboratrici sue nel ministero, le conosciamo, Priscilla insieme col marito Aquila, Giulia addirittura chiamata Apostola. Quindi c'erano tutta una serie di donne che avevano un ruolo, diciamo, anche di evangelizzazione riconosciuto. In quel caso Paolo interviene con un argomento, diciamo, un argomento ad omine, anzi dovremmo dire ad femmina, perché si tratta di dirimere una situazione interna a quella comunità, un passo molto discusso, ma per il resto Paolo dirà che non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Quindi non è soltanto qualcosa che appartiene a Gesù, ma anche alla testimonianza della primitiva predicazione apostolica. E poi ci sono delle donne addirittura discepole. Il discepolato femminile era una cosa che non esisteva presso i rabbini, come sappiamo. Abbiamo detto che non si poteva insegnare alle donne la scrittura. E invece, in realtà, qui le donne diventano discepole di Gesù. Discepole di tipo sedentario, pensiamo a Marte e Maria, anche con la questione di Maria che si mette ai piedi, diciamo, di Gesù, come sappiamo dal racconto di Luca. Mettersi ai piedi di uno corrispondeva, come per Paolo rispetto a Gammaliele, essere discepolo di uno. Stare ai piedi significava assumere gli insegnamenti del maestro. Quindi Maria, la sorella di Marta, si comporta di fatto come una discepola di Gesù, contro lo stereotipo che Marta incarna, che cioè Maria deve non fare quello, ma aiutarla nei lavori domestici per fare bella figura con l'ospite. I Vangeli ci parlano di molte di queste donne seguaci di Gesù. Queste donne che cosa fanno? Lasciano il proprio ambiente e seguono il maestro. Una cosa unica, possiamo dire, nel panorama antico. Perché non esisteva presso i rabbini. Non abbiamo termini di confronto. E anche, in particolare, la figura di Maria Maddalena. Purtroppo, come sappiamo, questa donna senza marito, perciò è di Magdala, come Gesù è di Nazare. Non è la moglie di Gesù, se lo fosse stato, l'avrebbero detto. Invece è una donna unica, un caso unico, perché non ha relazioni parentali. È una donna che ha seguito Gesù. Lo scandalo di questa donna è uno scandalo di tipo culturale che è continuato nel corso della storia. Perché questa donna, per seguire Gesù, ha lasciato la vita di prima, ha lasciato un marito e tutte le altre questioni, e non è neanche una peccatrice o una corrotta. Magari è una persona, come dice Luca, liberata dai suoi mali, dai suoi demoni, da tutte le sue sofferenze, ma poi diventata discepola, a pieno titolo di Gesù. Luca ci dice i nomi diversi di queste donne, alcune delle quali sono anche personalità di spicco del mondo culturale antico. che poi, accanto alla coluten, cioè al seguire, inserisce l'altro verbo, diaconein. Non voglio entrare in questa questione. Ma questo termine diaconein, come sappiamo, è il termine del servizio. Queste donne esercitano un servizio, alla pare degli altri, delle altre forme di diaconia presenti nella Chiesa. Anche qui, Gesù rompe un tabù. Ma non perché Gesù addimira la questione della donna solamente isolata dal contesto, cioè dal resto della società antica. Gesù legge la situazione della donna nel contesto della società antica e quindi rovescia quella marginalizzazione che apparteneva alla cultura del tempo. Le donne, mi avvia la conclusione, diventano poi anche non solo discepoli, ma apostole. L'ho già detto prima. E' interessantissimo quello che dicono gli studiosi a proposito di una Corinzi 15. Sulle donne che vanno al sepolcro e trovano appunto il sepolcro vuoto e ricevono l'annuncio della risurrezione dall'angelo, ci sono già, come sappiamo, le ironie, ci saranno le ironie degli appartenenti al mondo culturale greco-romano. Celso ironizzerà su questa cosa perché non appartiene appunto alla cultura greco-romana che la testimonianza di una donna sia importante. E forse per questo Paolo in una Corinzi 15 rimpiazzerà la visita di Maria Maddalena con l'incontro con Pietro. Interessante. Perché in un contesto diverso, cioè quello della costituzione di situazioni ecclesiali, la situazione di Maria Maddalena faceva anche difficoltà da questo punto di vista. E ciò invita tutti quanti noi a riflettere. dal punto di vista della fedeltà agli eventi storici e della recezione di questi eventi storici nel corso della storia della Chiesa. L'ultimo aspetto, e mia via conclusione, le donne diventano addirittura modello del credente, della comunità, del discepolo. Se è vero che il Vangelo di Matteo dice che la donna secondo il diritto matrimoniale ebraico in una posizione diciamo inferiore rispetto all'uomo, Marco rovescerà questa situazione e dirà che anche per la donna, anche la donna commette adulterio se in qualche modo desidera un altro uomo. E quindi già Marco riequilibrerà quello che nel Vangelo di Matteo invece sembrerebbe come dire, ancora dominato dalle tradizioni culturali greco-romane. Ma all'immagine della donna chiamata alla fedeltà subentra un altro aspetto. Cioè subentra l'aspetto possiamo dire della donna modello di generosità. Se pensate alla vedova del Vangelo o pensiamo per esempio alla donna dell'unzione con il suo spreco o alla peccatrice perdonata sono tutti esempi di donne. Queste donne Gesù le capisce. Il contesto culturale fatto di uomini legati a tradizioni religiose in alcuni casi sono farisei come nel caso della donna peccatrice in altri sono gli stessi apostoli. Questi uomini questi maschi non le capiscono. Gesù invece empatizza con queste donne. Cioè capisce le donne dall'interno da ciò che esse provano da come esse si relazionano con un linguaggio diverso rispetto a quello degli uomini ma assolutamente autentico. E infatti Gesù non le giudica dall'esterno secondo gli stereotipi culturali del suo tempo. Le capisce e coglie nei loro gesti che sono dettati dalla capacità di esporsi di donarsi senza riserve uno specifico dell'animo femminile che deve diventare secondo lui il modello di tutti i cristiani. Le mani di queste tre donne esemplari hanno donato più che afferrare riconoscendo nella logica dello spreco potremmo dire cioè del donarsi senza riserve la bellezza stessa di Dio affidandosi a un amore che è smisuratezza che è eccesso che è impossibilità di dire basta. È una simmetria è un altro ordine di idee rispetto alla legge questo vale anche per tutti quei tentativi di leggere solamente in chiave di emancipazione come dire omologante i rapporti tra l'uomo e la donna. Mi avvia la conclusione Gesù non ha solo rivalutato le donne Gesù non ha solo costituito le donne partners dialogici Gesù non solo ha ridato le donne la loro dignità ma Gesù ha fatto di più ha colto nell'essere femminile una cifra dell'amore di Dio grazie 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 donna Emilio un attimo ti lascio il microfono grazie perché ci ha permesso di completare questo questo percorso con gli occhi di Gesù cioè noi abbiamo visto come lo sguardo di Gesù entrava nella nella profonda umanità e specificità dell'essere femminile e quindi questo diventa il patrimonio da valorizzare ha fatto un passaggio donna Emilio del femminismo omologante che è il grande rischio la verrebbe da dire la la grande truffa che c'è dietro la valorizzazione della donna quindi cogliere questi aspetti attraverso la figura di Gesù e cogliendone proprio lo dicevamo all'inizio il senso rivoluzionario è probabilmente il patrimonio più grande che dobbiamo saper valorizzare anche come chiesa e anche nel dibattito nel dibattito pubblico io inviterei adesso un attimo don Carlo Pisani che è il parroco della parrocchia di San Pietro e Paolo e quindi anche della di questa chiesa che ci ospita la Madonna di Costantinopoli a raggiungermi perché dobbiamo omaggiare donna Emilio prima della pubblicità allora abbiamo esigenze di spettacolo allora no ma la cosa la cosa divertente è che naturalmente io don Carlo non ho minimamente avvertito questa cosa quindi allora un attimo solo perché noi abbiamo come omaggio ogni sera ai nostri ospiti abbiamo questa pasta che è la pasta di oro giallo e il vino che è il vino della Cantina Marino che sono due prodotti di eccellenza del nostro territorio naturalmente la simbologia è scontata e quindi è un piccolo omaggio per fare in modo che ritornando a casa il cilento possa essere ancora presente grazie 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 abbiamo fatto di tutto nella vita questo lo spot e poi è una cosa bella una cosa di casa sì sì no no ma sono realmente qui abbiamo un questa è un'azienda del Vallo di Diano che produce pasta artigianale e poi il vino di Marino che tra l'altro è proprio un'azienda di Agropoli e quindi è un aglianico offre quest'anno quindi ci sta inoltre questo è un testo con delle illustrazioni che ricordano la tradizione della presenza di San Francesco ad Agropoli ci sono delle bellissime illustrazioni che ha realizzato Rosa Cianciulli e poi ci sono dei versi che ho scritto io ad accompagnare queste opere quindi grazie a Don Emilio grazie a voi noi ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità e ritorniamo Don Emilio ha impallato proprio l'inquadratura complimento allora dopo ha detto la prima esperienza di fare il testimone all'influencer pubblicitario la seconda è quella dell'impallatore seriale va bene però lo perdoniamo per tutto il bene che ci ha fatto con la sua relazione dicevo pochi minuti di pubblicità ritorniamo qui con Amedeo Giordano e poi con una tavola rotonda molto particolare intensa perché concluderemo il festival della teologia con questa tavola rotonda sulla donna del Mediterraneo abbiamo qui questa sera l'assessore alle pari opportunità della regione Campania Chiara Marciani abbiamo il direttore dell'istituto superiore di scienze religiose San Matteo di Salerno Don Bruno Lancuba abbiamo la professoressa Lina Amorcos che insegna arabo alla facoltà teologica di Napoli ed è una esponente del movimento dei focolari e poi abbiamo la professoressa Pina De Simone che è la coordinatrice della specializzazione in teologia fondamentale della sezione San Luigi della facoltà teologica di Napoli che come ci spiegherà anche lei sta vivendo profondamente questo filone di ricerca che caratterizza la specializzazione in teologia fondamentale della sezione San Luigi sulla religiosità del Mediterraneo quindi un filone di ricerca che deve aiutare l'umanità e le sofferenze che anche in questi giorni purtroppo continuiamo a registrare nell'area del Mediterraneo attraverso una visione che sappia cogliere nei segni dei tempi anche uno spirito e un'apertura al dialogo che forse si rischia di far tacere con troppa facilità quindi pochi minuti di pazienza e ci ritroviamo qui grazie grazie Grazie.